con tutta la tecnologia che montano le auto elettriche si potrebbe pensare che c'è bisogno di un ingegnere aerospaziale per metterci le mani sopra o così almeno direbbe uno come Ernesto Carbone convinto tra l'altro che la loro manutenzione costi molto più di quella di un'auto tradizionale non è così in realtà scopriamo perché se da un lato i motori a combustione interna hanno migliaia di parti mobili quelli elettrici sono costruiti con poche decine di componenti e tendenzialmente non hanno bisogno di manutenzione nessun filtro dell'aria o dell'olio da sostituire nessuna cinghia di trasmissione che rischia di rompersi un motore elettrico richiede solo un controllo rapido con uno strumento diagnostico in grado di rilevare eventuali codici di errore lo stesso vale per le batterie che non hanno parti mobili la diagnostica si fa su ogni singola cella e nel caso viene sostituita solo quella sotto esame anche i cavi ad alto voltaggio di solito ben visibili e di colore arancione per i quali è sufficiente un'ispezione occhio nudo per trovare eventuali danni o collegamenti allentati i cavi sono sempre ben protetti al riparo da sporcizia o detriti dalla strada richiede poca manutenzione anche il cambio che è un semplice riduttore una struttura meno complessa di qualunque cambio manuale, automatico o a doppia frizione nella sagrante maggioranza dei casi viene usato un olio sintetico per la lubrificazione una volta sigillato il cambio non deve neanche più essere riaperto il sistema di raffreddamento di un'auto elettrica serve a tenere le batterie alla corretta temperatura d'esercizio sia d'inverno che d'estate quasi tutti i modelli hanno un sistema di raffreddamento a liquido che richiede poco più di un'ispezione visiva e la rabocca del liquido ma solo se necessario in comune con le auto tradizionali ci sono i freni che in un'elettrica sono sottoposti a maggiore sforzo perché l'auto pesa di più, in compenso grazie alla frenata rigenerativa si usano molto meno la sostituzione dei dischi e delle pastiglie avviene con minore frequenza in più ogni due anni come per tutte le auto va cambiato il liquido dei freni i controlli riguardano anche gomme e sospensioni che pagano lo scotto di un'auto più pesante e di una coppia motore disponibile immediatamente il climatizzatore che nel migliore dei casi dispone anche di una pompa di calore viene sottoposto agli stessi controlli di un'auto motore termico con un annesso rabbocco dei livelli e ricarica del gas dove andare per i tagliandi? le elettriche non sono autocomplesse ma richiedono manodopera specializzata i cosiddetti meccanici di quartiere devono adeguarsi le case con vetture elettriche a listino dispongono di personale specializzato che conosce le auto, le procedure per la loro manutenzione e tutti i protocolli di sicurezza necessari per lavorare con tensioni e correnti molto elevate ogni quanto si fa il tagliando per lo più lo decide il costruttore con gli avvisi dati dal computer di bordo dell'auto dopo un tot di tempo o di chilometri percorsi per tutti i componenti legati alla sicurezza come freni e gomme gli intervalli di tempo sono simili a quelli delle auto tradizionali ma quanto costano i tagliandi di un'elettrica? gomme, dischi dei freni, pastiglie, liquidi, tergi e cristalli tutti i componenti in comune con le auto tradizionali hanno costi equivalenti così come la manodopera eventuali parti danneggiate vanno pagate a parte a meno che l'auto non sia ancora in garanzia in generale però la manutenzione annua di un'auto elettrica costa poco più della metà di quella di un'auto tradizionale rimane l'incognita del costo delle singole celle di una batteria che al momento non è noto ma sappiate che si tratta di cifre rilevanti a tranquillizzare gli animi ci pensano i costruttori che per gli accumulatori prevedono coperture superiori ai tradizionali due anni previsti per legge mediamente sono garantiti fino al 70% dell'efficienza per 8 anni o un chilometraggio che va dai 160.000 ai 200.000 chilometri e anche in quel caso vengono sostituite solo le celle che hanno perso efficienza e anche in quel caso